Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6, ultimo della settimana per quanto riguarda la nostra rassegna stampa che inizia subito dalle prime pagine dei giornali regionali. Partiamo dal centro, questa la prima della edizione di Pescara, Vertice H spunta Leombroni, azienda dell'acqua Corsal dopo di Baldassarre con piano del PD per l'ex dirigente vicino ad Alfonso. Intanto il sindaco di Francavilla spinge per tornare al CDA, l'ente non funziona, serve una svolta, così il sindaco Antonio Luciani. Poi a centro pagina il Tour 5 Stelle in difesa della Costituzione in migliaia in piazza Giulianova per il ritorno blitz di Beppe Grillo, presenza annunciata all'ultimo minuto per il leader del movimento che è tornato in piazza. In migliaia Giulianova hanno fatto largo ieri sera all'arrivo in moto di Beppe Grillo, il leader delle 5 Stelle, è tornato sul palco dopo mesi di assenza in occasione del Tour Costituzione Cost to Cost che Alessandro Di Battista, nella foto a destra, porta in giro per l'Italia. Applausi, risate, attacchi a Renzi, sul palco anche Luigi Di Maio, lo vedete sullo sfondo insieme al consigliere regionale mercante. E poi Vaccena e rapina un ristoratore, mostra una pistola, quando c'è da pagare il conto viene arrestato, notizia che arriva dalle cronache di Montesilvano. È sempre nelle cronache ma Pescara gioca a Montesilvano, sconto tra auto e motorino grave, un calciatore dell'acqua e sapone è finito con il suo motorino contro un'auto, ora lotta per vivere in ospedale, gli amici lo incoraggiano con foto e post. E poi i controlli di notte, blitz dei vigili in piazza Muzzi, multati 9 locali. Ancora nelle cronache di Penne, meno 500 residenti, non c'è lavoro, giovani in fuga dall'area vestina. Adesso andiamo nel taglio alto della prima pagina del centro, troviamo ovviamente le Olimpiadi di Rio de Janeiro, strepitosa rimonta, Italvolle in finale, argento invece per il sette rosa di pallannuoto. E poi, lo vedete, Paolo Nicolai, che favola! Oggi il poster con un paginone dedicato al pallavolista argento nel beach volley insieme a Lupo, suo compagno di squadra. Una storica vittoria quella di Nicolai, che è originario di Ortona. Storica vittoria perché notoriamente il beach volley è una disciplina in cui l'Italia è sempre fatto un po' di fatica. L'argento è arrivato contro la fortissima coppia brasiliana che era già campione del mondo. E poi, nel taglio basso, il Buongiorno Abruzzo, firmato da Edoardo Amato, i profughi a lavorare, Roseto apre la strada, questa è la notizia che ci racconta Amato, e di spalla il calciomercato per quanto riguarda il calcio di Serie A. Pescara prende buyback, punta del PSG. Ore d'attesa e non solo per la partita di domani sera all'Adriatico Cornacchia contro il Napoli. Big match di esordio nel campionato di Serie A. C'è infatti il mercato a tenere banco per il Pescara Calcio, visto che martedì mattina è atteso in città il 23enne Jean-Christophe buyback. A meno di sorprese sarà lui il nuovo attaccante del Pescara che dopo che ieri sono stati definiti gli ultimi dettagli con la punta ai dirigenti del Paris Saint-Germain. C'è l'accordo su tutto e le parti si stanno scambiando i documenti da depositare in Lega. Andiamo avanti sempre sul quotidiano Il Centro. Adesso andiamo a vedere la prima dell'edizione di Chieti Lanciano Vasto. Due indagati per omicidio stradale. Il titolo di apertura a Chieti sotto accusa un teatino, una donna di manoppello per il tragico incidente sull'asse attrezzato. Lunedì ci saranno i funerali dell'ex consigliere di Torrevecchia Dionisio, autovelox sulla strada maledetta. Ovviamente si parla del raccordo autostradale tra Chieti e Pescara. E poi ritroviamo ancora la notizia a centropagina del blitz di Grillo a Giulianova, ieri con il comizio in piazza. Andiamo a vedere invece di spalla l'attentato danno fuoco alla casa di una donna. Poteva trasformarsi in una tragedia l'incendio di natura dolosa divampato a giovedì sera in un appartamento di via Garibaldi in pieno centro storico a Lanciano. Quando i vigili del fuoco sono entrati nell'alloggio destinato a casa parcheggio e si sono fatti strada nel denso fumo che invadeva la camera da letto, da dove si sono sprigionate le fiamme, si sono resi conto con orrore che nel locale rappresenta anche una bombola del gas con la valvola aperta. Immediatamente sono state fatte evacuare le famiglie residenti rimaste a lungo in strada. Andiamo a vedere nelle cronache. Sempre da Lanciano in 15 a Villa Elce i primi emigranti arrivano tra le proteste. Sono una quindicina al momento i migranti, tutti uomini arrivati a Villa Elce in una struttura privata. Arrivano dal Bangladesh e dalla costa d'Avorio. E poi in Chieti caso all'Ateneo, privacy violata, il garante censura il DG. E poi a Vasto il frate morto, lutto cittadino per l'addio a padre Romano. Sotto la testata con 2 euro ne vince 80 mila. A Tessa un operaio centra al 10 e l'8 la vincita più alta d'Italia. Certamente è una bella vincita. Andiamo avanti. Ancora sul quotidiano il centro. Passiamo all'edizione Teramana. Emiliaia in piazza per Grillo. Notizia che si sposta in apertura di giornale. A Giulia Nova il ritorno del leader 5 stelle in occasione del tour in difesa della Costituzione. L'arrivo in moto tra la folla e poi sul palco insieme a Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista. Di spalla. Pratiditivo sul Gran Sasso per le foto delle nozze. La passione per la montagna li ha fatti incontrare e innamorare ed è per questo che hanno scelto il Gran Sasso come sfondo del loro album di nozze. Due sposini pescaresi, Elisa Rossi e Giorgio Maccallini, sono saliti sulla Madonnina con tanto di scarpe da trekking sotto gli abiti da cerimonia per farsi immortalare sulle vette del Gran Sasso Teramano. Una scelta suggerita da un loro amico fotografo Massimo Capaldi accettata con entusiasmo dai due sposi freschi di nozze arrivati a Pratiditivo tra lo stupore e la curiosità dei tanti turisti. È chiaro, non è usuale vedere sposi in scarpe da trekking. Nelle cronache, sostegno psicologico, malati di cancro, uno sportello per le famiglie sarà attivo dal mese di ottobre nel reparto di oncologia dell'ospedale Mazzini di Teramo. Pineto, nuove indagini sull'esplosione del gasdotto e dunque si torna a parlare di quella tragica esplosione. E poi Giulianova, delitto di Viaorsini, l'assassino torna davanti ai giudici. Andiamo a vedere sotto la fotografia, sporcizia e pidocchi in casa, arrivano i carabinieri, figlia ricoverata, madre a rischio, denuncia. Andiamo a vedere anche qualche passaggio del Buongiorno Abruzzo, visto che siamo sulle cronache teramane. Il titolo, ve lo ricordo, i profughi a lavorare, Roseto apre la strada. L'articolo di Edoardo Amato non è molto popolare di questi tempi parlare in termini positivi di qualcosa che riguarda gli immigrati, in particolare i profughi che l'Italia sta accogliendo per motivi umanitari. L'unica cosa che la maggior parte delle persone vuole sentire e mandiamoli via, figuriamoci se gli può interessare un tentativo di integrazione. Anche per questo la decisione del Comune di Roseto di impiegare i profughi in lavori utili alla collettività è da apprezzare. La delibera è stata già approvata e tra una venti profughi che accetteranno di partecipare al progetto saranno messi a lavorare per la manutenzione. Non è la prima esperienza di questo tipo. Andiamo avanti, sempre sul centro, questa è la prima pagina dell'edizione di L'Aquila Vezzano sul Mona. Respinto da sette ospedali, muore. Pratero a Terni si spegne poco prima del ricovero e il figlio denuncia la... Di spalla, progetto case, Maxi Bollette sfollato torna sul balcone. Si aspettava almeno il ritorno dell'acqua e quando si è accorto che il rubinetto era ancora secco, la disperazione ha di nuovo preso il sopravvento ed è tornato sul balcone minacciando di buttarsi di sotto. Carlo Sordini, 40 anni, invalido civile, ha scavalcato di nuovo la ringhiera del balcone al secondo piano della palazzina di Cese di Preturo e ha ripreso la sua protesta contro le Maxi Bollette del progetto case. In bilico sul cornicione l'uomo ha richiamato ben presto l'attenzione degli altri sfollati. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. Nelle cronache, Movida a luci rosse, sesso in strada davanti a tutti, coppia nei guai, scatta la segnalazione, i carabinieri rompono e denunciano due trentenni, sesso nella strada della Movida Aquilana e poi nelle cronache di Avezzano Marsica l'ordinanza acquinquinata ha vietato il rigare nel Fucino. In Sulmona la petizione Diocesi a rischio soppressione in 500 dicono di no. Sotto la fotonotizia minaccia agli amici, viene arrestato, Avezzano famiglia perseguitata e pedinata per 10 anni. Andiamo avanti adesso e cambiamo testata, passiamo al messaggero, andiamo a vedere la prima del, scusate, questa è la prima nazionale del messaggero, andiamo a recuperare la prima regionale del quotidiano romano. Eccola qui, possiamo vederla insieme, il titolo di apertura Pescara, allarme e commercio, bene, è ripartita l'applicazione, sta facendo il refresh e tra poco riusciremo a visualizzare di nuovo la prima pagina del messaggero Abruzzo, andiamo a vedere insieme qual è l'apertura scelta dal giornale. Pescara, allarme e commercio, bene la notte dello shopping ma i negozianti lanciano l'SOS, siamo allo stremo, le associazioni, un evento non basta, intervenga il comune e stasera c'è il concerto di Fiorella Mannoia. E poi la notizia che abbiamo già visto in precedenza, Costituzione Cost to Cost, Grillo arriva in moto a Giulianova, un urlo nella piazza, sono le 21.35 quanto compaiono le moto di Di Maio, di Battista e l'ultimo tra loro quella di Beppe Grillo con il casco e il volto praticamente travisato. La piazza lo attendeva, il popolo pentastellato che aveva riempito Piazza del Mare all'Ideo di Giulianova aspettava con ansia il suo arrivo. I tre escortati da motociclisti organizzati ma anche improvvisati che si sono uniti per strada arrivano da Fermo dove era stata ufficialmente predisposta la carovana. Prima del loro intervento avevano parlato i consiglieri regionali e i parlamentari del 5 Stelle. E poi lo sport a centropagina, Nicolai Argento senza rimpianti, l'ortonese in coppia con Lupo sconfitto nella finale olimpica del beach volley a Rio. Non ce l'ha fatta a conquistare la medaglia d'oro che sognava, lo ha dichiarato subito dopo la partita. L'ortonese in coppia con Lupo è stato sconfitto 2-0 in finale dai padroni di casa del Brasile a termine di una gara durissima giocata sotto un vero e proprio diluvio. Ma la medaglia d'argento è comunque un risultato storico per tutto lo sport italiano, mai un beach era azzurro era arrivato così in alto. Volevamo una medaglia, ha commentato Nicolai, e quindi siamo molto contenti per il risultato. Ovvio però che arrivati in finale speravamo in un esito diverso e qualsiasi atleta ovviamente arrivato in finale spera di poter centrare il massimo obiettivo. Il massimo obiettivo che spera di centrare anche il Pescara, la grande attesa per l'esordio contro il Napoli. Tutto pronto per il debutto. I biancazzurri domani nella prima di campionato contro il Napoli in attesa dei rinforzi promessi da Oddo. Oddo fa debuttare Ghiomber e potrebbe confermare inizialmente la formazione senza punte di ruolo. Andiamo a vedere di spalla. Turismo boom, Montesilvano già vicino a quota 120.000 presenze, complici anche i dati positivi da parte dell'Arta sulla qualità delle acque. Mare pulito e a misura di bambino, incredibile numero di presenze stagionali a Montesilvano. Nel taglio basso, l'Aquila sesso in strada in pieno giorno, ne avevamo visto anche in precedenza questa notizia, fanno sesso in strada in un'ora non tarda e vengono denunciati in stato di libertà con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico. Ancora il centro storico dell'Aquila, quale set cinematografico di coppiette che imbarba non solo alle leggi vigenti ma alla pura e semplice decenza non si preoccupano di dare spettacolo, per di più in vie particolarmente trafficate da automobili e pedoni, soprattutto in questo periodo estivo. Andiamo nel taglio alto. Chieti schianto sull'asse, due indagati con l'accusa di omicidio stradale per l'incidente dell'altro ieri notte. Poi Montesilvano rapina i soldi alla festa di compleanno dell'amico e poi Francaville, sindaco e due assessori in giuria a Miss Trans. Stasera è il concorso per la prima volta in largo modesto della porta. Luciani sono contrario a ogni pregiudizio e discriminazione. Adesso andiamo a vedere la prima della città quotidiana della provincia di Teramo. Dunque andiamo a recuperare anche questa prima pagina. Denutrita e infestata dai pidocchi. 16 anni è stato di abbandono alla periferia di Teramo, salvata dai vicini di casa e dai carabinieri. Questa è l'apertura scelta dalla città che a centropagina nella fotonotizia mette il comizio di Beppe Grillo a Giulianova. Giulianova a Piazza del Mare Stracolma per il leader dei 5 Stelle Grillo Rockstar è il titolo scelto per questa notizia. E poi sempre per quanto riguarda la politica, lancette in avanti per il Brucchi Bis. I gattiani non staccheranno la spinna fino alla fine del mese. E poi Tortoreto, rubatte, panche e tavoli del Palio del Barone, la notizia di spalle. Poi Giulianova un altro intoppo per il nuovo Lido delle Palme. Ad Alba Adriatica allarme per la banda delle Zingarelle. Andiamo sotto la testata. Numere in aumento rispetto al 2013. In Abruzzo 267 beni confiscati alle mafie. Nel taglio basso invece a Teramo, scuolabus di nuovo alla Angelino. A Tottea, vecchioni canta e poi in palline il governo su scuola e ricerca. E per la cultura, i bambini di Betania dalla poesia al cinema come attori di un corto. Questo per quanto riguarda le prime pagine regionali. Adesso passiamo invece a vedere insieme le prime pagine nazionali. Dunque apriamo la nostra rassegna con i principali giornali italiani. Partiamo dal Corriere della Sera. Berlino e Parigi crescono i divieti sul velo integrale. Mattarella, niente muri, più dialogo tra le fedi. E' questa la notizia che il Corriere pone in primo piano assieme alle Olimpiadi di Rio. Vole in finale sette rosa d'argento. Questo è il riassunto della giornata di ieri. L'Italia del gioco di squadra e il titolo. E poi c'è l'editoriale di Angelo Panebianco. Tornando invece ai temi della politica, un'intesa ancora possibile sulla riforma elettorale. E poi la cronaca. In campagna i sub spariti nella grotta, 50 metri di profondità. Tre dispersi nell'immersione a Palinuro. Andiamo adesso sulla Repubblica. Più investimenti e competitività. Ecco il piano per convincere l'Unione Europea. Il ministro Calenda, così otterremo la flessibilità, ma non bisogna coprire i problemi dopo i dati non esaltanti diffusi dall'Istat sull'economia italiana. Poi di spalla, burka, la svolta della Germania a mostrare il volto dovere sociale. C'è stato l'accordo tra i ministri tedeschi per quanto riguarda questo provvedimento per vietare il burka in alcuni luoghi pubblici. E poi a centro pagina. Cuore e rabbia. USA KO. L'Italia del volley in finale. Little volley ha vinto al tie break contro i forti statunitensi, guadagnandosi la finale per l'oro che sarà disputata contro il Brasile padrone di casa. Sole 24 ore quotidiano economico italiano. Borse in rosso. Milano perde il 2,18%. È stato un venerdì nero per quanto riguarda tutte le borse europee. Sui listini tornano a prevalere le vendite sui titoli bancari. Sotto pressione anche auto, assicurazioni ed energetici. Sterline in caduta sotto gli 1,31 dollari sui nuovi timori per i tempi della Brexit. E poi investire con il sole 24 ore. Ritorno al mattone nell'era dei tassi zero. Nonostante la tassazione sulla casa sia abbastanza elevata, in Italia si torna di nuovo ad investire sul mattone proprio perché, come dice anche il giornale, i tassi bancari sono al minimo storico e dunque mettere i soldi in banca rende poco e allora gli italiani tornano ad investire sulla casa e chissà che non sia anche una spinta all'edilizia settore già colpito fortemente dalla crisi. Fisco 100 scadenze per 23 miliardi. Entro lunedì i pagamenti legati alla proroga dell'unico, dall'IRPE fallires, dall'IVA all'IRAP. Queste tutte le scadenze in agenda. Andiamo avanti con la lettura dei giornali. Passiamo al messaggero. Statali, norma, salva dirigenti. Dopo le polemiche il Governo vuole confermare ai direttori generali i mandati in scadenza, ma la riforma Maria prevedeva fra sei mesi l'azzeramento di tutti gli incarichi e nuovi concorsi. E poi provvedimento transitorio magistrati allo studio un decreto per allungare l'età pensionabile. E ancora migranti, il piano Renzi-Merker, nuovi divieti sui costumi islamici. Berlino e Nizza, stretta su Burka e Burkini, Mattarella, i muri non servono. E poi ancora dagli esteri, missili russi dal Mediterraneo, nessuna tregua, bombe su Aleppo, il ruolo dell'Italia nella crisi siriana. E poi a centropagina, Rio, Beachvolley e Sette Rosa, altri due dirigenti per gli azzurri. Strepitosa rimonta dell'Italvolley che arriva in finale. La stampa. Difesa comune europea, Renzi porta il piano a Merker e Hollande. Aleppo senza tregua, intanto missili russi dal Mediterraneo, le forze speciali statunitensi sotto il tiro dei caccia siriani. Per quanto riguarda invece le mosse per Ventotene, Mattarella dice niente muri contro i migranti. Poi abbiamo le Olimpiadi, volley, magica rimonta, palla a nuoto che peccato, gli uomini della pallavolo in finale, argento invece per le donne della palla a nuoto. Poi una notizia che riguarda anche un po' la nostra regione, perché l'effetto Ryanair ci si spera possa dare nuovo vigore al turismo regionale abruzzese dopo l'accordo raggiunto per non chiudere la base di Pescara. Sbloccato il centro moda francese in Italia, Italia, effetto Ryanair, ecco chi investirà dopo l'annuncio della compagnia low cost irlandese di un investimento di un miliardo di dollari in Italia, ecco altre aziende che decidono di investire nel nostro paese. Andiamo avanti con il Fatto Quotidiano, il titolo di apertura, Renzi da solo parla più di tutti gli altri, Rai Condicio, la TV pubblica sempre più squilibrata, anche a luglio l'opposizione è stata presente in video per 10 ore e mezzo, il Premier 11 ore. E poi ecco come i politici hanno distrutto il Monte Paschi di Siena, il documento, l'inchiesta avviata dalla regione toscana. E poi come eravamo 100 anni fa quando il Burkini l'avevamo noi, questa insomma la considerazione del Fatto Quotidiano. Il tempo adesso, ospedale se lo conosci lo eviti, sanità bestiale, pronto soccorso al collasso, pazienti parcheggiati, liste d'attesa infinite, a Roma chiudono i reparti ma aprono le stanze di lusso, un ricovero costa 300 euro a notte. Dunque come vedete i problemi nella sanità e soprattutto al pronto soccorso non sono solo nella nostra regione. E poi a centropagina, giunta raggio ancora immobile, il 28 agosto scala il termine, nuovo stadio pronto e il ricorso di pallotta per quanto riguarda il nuovo stadio della Roma. Roma che aprirà il campionato di Serie A come lo scorso anno all'Olimpico arriva l'Udinese e poi in serata, nella partita forse più attesa, Juventus-Fiorentina. Per quanto riguarda i migranti, Mattarella basta muri, Salvini attacca il capo dello Stato e amico degli scafisti, così il leader della Lega Nord. Andiamo sull'unità, non ci difenderemo con i muri. Mattarella, illusorio risolvere il problema migranti vietando l'ingresso, va governato il fenomeno. Cardini, da Ventoteno in Europa, modello Stati Uniti. Fitussi, serve lavoro, non austerità. Andiamo avanti. Libero, delirio Mattarella, Sergio in ginocchio, aprire ai profughi. Il presidente al meeting di comunione e liberazione si abbandona al conformismo che irrita gli italiani. Questa è la lettura di Libero. Andiamo sul manifesto. La Lega Nord, su questa notizia che vede l'assistenza ai migranti. A Como nel profondo nord, un'altra bega per la Lega Nord con l'accoglienza ai migranti. E poi sotto la testata, fatture crescita zero, la manovra impossibile. Si torna ovviamente a parlare di economia in chiave nazionale. Avvenire, unità non muri. Mattarella non si risolve con vietato l'ingresso il problema dei migranti. Più deboli senza coesione, la democrazia è noi, inteso come comunità. Andiamo ancora avanti. Il mattino, Palinuro, la strage dei sub. Tre vittime, due cilentani, un milanese, i corpi in una grotta a 50 metri di profondità. Nuova tragedia nel paradiso del diving. L'ipotesi, l'istruttore è andato a salvare gli altri in difficoltà. E poi sotto la testata nel taglio alto, Rio 2016, lo ZAR fa sognare l'Ital Volley, Sette Rosa, gli Stati Uniti troppo forti. Solo argento per quanto riguarda la palla a nuoto. E poi domani a Pescara il debutto in campionato, Diavara si avvicina, Capitano Amsic alza il tiro, Juve Scudetto voglio vincere. Ovviamente il Napoli è una delle pretendenti allo Scudetto. Andiamo ancora avanti, la Gazzetta del Mezzogiorno. Noa i muri antimigranti, si torna sulle parole di Mattarella al meeting di CL. Salvini lo attacca, complice degli scafisti, bufera sull'imame di Firenze per le foto delle suore in tonaca al mare. Andiamo sul secolo XIX adesso. Difesa comune dell'Italia, piano per l'Unione Europea. al summit con Merkel e Hollande, Renzi rilancia i battaglioni europei. Ultimo giornale che andiamo a vedere per la rassegna nazionale, il Gazzettino, Burka si allarga il fronte del no. Il caso Mattarella, no ai muri per i migranti, attacco di Salvini, così è complice degli scafisti. Intanto in Germania sia la legge antivelo, a Nizza proibito, Burkini sulle spiagge, Friuli, proposta di divieto negli uffici pubblici. Rapidamente andiamo anche a vedere le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali. Iniziamo dal Corriere dello Sport. Rio 2016, tutti pazzi per il volley. Una delle più belle partite della nostra storia. Gli ace di Zaziev resuscitano. L'Italia batti cuore. Stati Uniti battuti 3 a 2. Siamo in finale per un oro mai vinto domani alle 18.15. Un intero paese schiaccia e sogna. Poi sotto la testata riparte la caccia al mostro Juve. Il peso dei campionissimi subito sulla bilancia viola per la partita fiorentina-Juventus. E poi Inter-Ricardi rinnovo con clausola fino al 2021. E poi Milan, Sogno Kovacic, spunta Stambolini, si tratta col PSG. E poi Romodinese, Spalletti attacca. E lo campionato al Via per i campioni una super sfida alle 20.45. Allegri fa sul serio e c'è la fiorentina di Sosa. Max in corona di bala, presto in cima al mondo. Pianici in dubbio, viola d'assalto con Borca Valero. Romodinese, Roma, Spalletti vola alto. Noi forti, vinciamole tutte. E poi di Walter Veltroni, Moratti, la mia interpura poesia. Nei cinesi ho fiducia. Io volevo sia Zidane che Totti. Il triplete è stato il massimo, ovviamente. E poi Volley, che impresa la rimonta che vale l'oro per il Volley maschile alle Olimpiadi di Grandi Italia. Usa battuti, finale domani. Intanto Beach Volley e Sette Rosa sono d'argento. Andiamo a vedere anche tutto sport. Juve, sei da leggenda, si chiede il giornale. A ore 18, Sereal, via Roma Udinese, allo Stadium. A 20.45 c'è la fiorentina e Allegri carica. Saremo diversi, ma vogliamo tutto. E Dybala diventerà uno dei tre top al mondo. Intanto il PSG apre per Matuidi. Ci sono i lampi di Pogba nella Premier League, ma alla fine ci pensa Ibra a risolvere i problemi per il Manchester di Mourinho. Sotto la testata il Torino tra Toro e Napoli. Rissa per Maxi sale la tensione tra i due club. Cairo alza ancora la posta. Domani a San Siro col Milan si parla anche di mercato. E le Olimpiadi. Ital Volley da urlo. Vogliamo in finale. Sette Rosa un argento da applausi. Questo per quanto riguarda la nostra rassegna nazionale, che si chiude qui. Noi ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario e poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Allora torniamo adesso alle notizie dalla nostra regione. Ripartiamo dalle pagine Abruzzo. Per prima vedremo la pagina Abruzzo del quotidiano Il Centro. Il tour Costituzione cost to cost in Emiliaia. Giuliano va per il ritorno di Grillo. Il leader di 5 Stelle arriva in moto e va sul palco con Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio. Applausi, risate, attacchi al premier Renzi. La vera rivoluzione e dire no ai privilegi. Questa è l'indicazione da parte del leader del Movimento 5 Stelle che dunque rinuncia al passo di lato che aveva annunciato per lasciare spazio agli altri leader del Movimento e torna in primo piano e in prima persona a fare politica all'interno del Movimento e non solo, anche nelle piazze. Allora andiamo ad ascoltare un passaggio dell'intervento di Grillo a Giulianova. Noi siamo qua a sbraitare concetti bellissimi, tutti giustissimi ma il fatto di dire no, il fatto di dire non è dire di no solo a questo referendum è il vostro no dentro, è il vostro no. Voi dovete dire no quando vi dicono guarda puoi avere un avanzamento di carriera, magari non lo meriti è lì che dovresti dire no, dovresti dire no a un aumento di stipendio. Voi dovete dire no, oggi il no è la forma più bella e più gloriosa della politica che è no! Allora il mio consiglio è quello di fermarvi, guardatevi dentro, guardatevi voi se siete in grado di prendere qualche scelta che possa condizionare la vostra vita perché scelte che non condizionano più la vostra vita non sono scelte bisogna cominciare a rischiare qualche cosa, bisogna assolutamente dire di no a certi privilegi che ti possono essere offerti è da lì che comincia la vera rivoluzione che abbiamo iniziato da noi noi non ce la faremo da soli a Roma siamo entrati in un circuito pazzesco Roma è la stratificazione della merda galattica di tutte le qualità di tutte le qualità, però la raggi e gli assessori e queste persone che sono state messe lì e sono state scelte da loro sono persone determinate, molto determinate e andiamo avanti e oggi Roma il centro è pulito, gli arci del Tevere sono puliti abbiamo trovato 24 milioni per riparare gli autobus rotti abbiamo visto che tutti i dispositivi per fare il riciclaggio dei rifiuti erano stati sabotati abbiamo bisogno di parole nuove, abbiamo bisogno che con le parole di pensieri nuovi e abbiamo bisogno di un sogno, un sogno per capire cosa dobbiamo fare per capire come sarà la società tra 10, 15, 20 anni come sarà l'energia, come saranno i materiali, come sarà l'economia e come sarà la politica fra 20 anni il movimento è tutto questo, è una grande occasione se la lasciate perdere andate a fa' il culo e dunque queste le parole anche un po' colorite di Grillo ma questo è il suo stile ormai da tempo pentastellati in moto, Grillo mascherato chiude la carovana questo è il titolo scelto invece dal messaggero nella pagina Bruzzo, Giulianova, Tantam nel pomeriggio Beppe Cisarale, 21.35 un boato il leader dietro Di Maio e Di Battista casco e bandana a coprire il viso prima di prendere la parola sul palco di Piazza del Mare e lo abbiamo ascoltato andiamo avanti riciclo, dalla pattumiera all'atelier la spazzatura diventa opera d'arte la scommessa della regione a utilizzare i rifiuti per fini educativi ed artistici ci vediamo i rifiuti si fanno arte la regione sottoscrive un protocollo d'intesa con l'associazione di consumatori Arco per mettere in pratica la cosiddetta economia circolare tra gli obiettivi prefissati ci sono la realizzazione di un laboratorio sperimentale di attività per la riduzione della produzione dei rifiuti la valorizzazione dei rifiuti a fini turistici e artistici sensibilizzare gli operatori turistici promuovere attività di compostaggio di comunità nelle strutture turistiche e promuovere lo scambio di buone pratiche ambientali questa attività che noi abbiamo messo su insieme a Arco Consumatori inirisce un'attività di campagna di sensibilizzazione nei confronti dei turisti dei turisti che stanno sia sulla costa che in montagna che tende quindi a ottimizzare il tema della differenziazione dei rifiuti quindi del riutilizzo dei rifiuti attraverso un'attività come dire ludica che tende a realizzare degli oggetti utili con gli stessi rifiuti gli attori di questa attività saranno principalmente i turisti intanto faremo un primo momento di evidenza pubblica con una mostra ad hoc dipenderà anche molto dalla risposta che noi avremo da queste 12 strutture turistiche che sono sparse su tutta la regione e su tutti e quattro i territori provinciali credo che unire questa attività insieme alle altre che noi storicamente facciamo nei confronti della giovane popolazione abruzzese per esempio nelle scuole credo che possa aiutare l'intero processo che sta procedendo secondo diverse linee di azione questa è una di GDS Restiamo sulla pagina Abruzzo del Messaggero Sottanelli, io padre della Digital Tax i colossi del web non mi fanno paura questa è l'intervista realizzata dal giornale ci aspettiamo dai 3 ai 5 miliardi per ridurre la pressione fiscale o sostenere il welfare proprio fondi che dovrebbero arrivare dalla Digital Tax Adesso torniamo invece sul quotidiano Il Centro e andiamo a proseguire la lettura della pagina Abruzzo Viabilità il caso multicolori e pericolose sono piste poco ciclabili sprovviste di segnaletica disomogene dove ogni comune fa come gli pare le associazioni reclamano un ufficio unico ma manca anche la cultura della bicicletta Andiamo avanti adesso alla pagina di Pescara i piani per l'azienda dell'acqua resa dei conti all'ACA spunta Leombroni la corsa, la successione di Baldassarre manovra del Partito Democratico per candidare l'ex dirigente del comune vicino ad Alfonso di Baldassarre in carica da tre anni avvocato pescarese di 54 anni esperto in diritto amministrativo arrivato alla guida dell'ACA nel 2013 ricoprendo l'incarico di amministratore unico è stato chiamato per salvare un ente gravato da circa 100 milioni di euro di debiti e poi sia il concordato ma c'è il ricorso con l'omologazione del concordato da parte del Tribunale di Pescara i conti dell'ACA sono tornati in attivo ma il concordato è stato impugnato da 12 ditte da una banca la BNL alla Corte d'Appello dell'Aquila imprese e BNL vantano oltre 15 milioni di euro di crediti dall'ACA se fosse confermato il concordato i crediti dell'azienda e della banca sarebbero didotti di quasi la metà e pagati a rate nel giro di sei anni la prima udienza ci sarà il 26 di ottobre per quanto riguarda sempre l'ACA la polemica del sindaco di Francavilla Antonio Luciani che dice l'ACA non funziona e sfugge al controllo dei sindaci non bisogna essere dei tecnici dice Luciani per comprendere in che situazione sono i nostri impianti di depurazione e le linee di adduzione dell'acqua potabile rialimentando così la polemica anche nei confronti della gestione di Baldassarre e poi l'ipotesi depuratore ora di Vincenzo si sfila nella partita sul futuro dell'ACA potrebbe essere rilevante anche la gestione del depuratore di Pescara andiamo avanti Movida notturna il blizzi vigili in Piazza Muzzi a Pescara multano nove locali pubblici partiti controlli contro l'invasione selvaggia dei tavoli nell'area pedonale violate le norme per l'occupazione del suolo pubblico appioppate multe per 9.500 euro e poi c'è l'attacco del consigliere comunale Pignoli in centro sono tornate le prostitute sono trascorse alcune settimane dall'ultimo bliz di polizie e carabinieri nella zona sud della città ma è dunque la piaga della prostituzione è tornata ad esplodere in tutta la sua gravità così il consigliere comunale della lista Teodoro Massimiliano Pignoli e poi sempre per quanto riguarda il centro città l'altro caso fermate i giovani con gli skate nuove proteste dei residenti di Piazza Garibaldi testa dice il sindaco intervenga ancora per quanto riguarda Pescara degrado nei quartieri esclusivi la protesta c'era una volta via Lecene di parlano i residenti e i commercianti questa era una zona chic ora abbiamo paura ad uscire di casa e poi iniziativa contro la violenza questa sera la polizia con un camper in piazza Salotto questo non è amore stasera la polizia incontra le donne andiamo avanti il PM di Stefano alla ASL affidare i pitbull al canile interviene la magistratura dopo le continue proteste dei residenti di via notturno e di largo isoletta per i due animali lasciati nel recinto dopo l'arresto dei padroni poi il caso degli autobus senza revisione i bus tua sono in regola con le revisioni il presidente della società tua Luciano D'Amico ha replicato un articolo pubblicato ieri dal centro che riportava la notizia di alcuni autobus della società di trasporto che sarebbero circolati senza revisione e multati dalla municipale il presidente D'Amico smentisce questa notizia poi la proposta Montefusco unire tutte le piste ciclabili della città questa è la proposta che arriva dall'associazione CAP 15 ciclisti anonimi pescaresi incidente in motorino grave un calciatore 22 anni di Montesilvano gioca nell'acqua e sapone stava consegnando pizzi a domicilio solidarietà sui social forza Davide e l'appello per lui e poi sfida il cellulare da una borsetta e viene arrestato dalla polizia la scorsa notte nel taglio basso la quarta edizione del Mocca i bambini diventano hacker festa e lezioni al Parco Cocco per il raduno degli informatici ora passiamo alla pagina di Montesilvano colpo alla festa di compleanno rapina il ristoratore dopo la cena e viene preso si ritrova con gli amici per festeggiare poi pretende i soldi del conto mostrando la sagoma di una pistola nel borsello il giovane è stato raggiunto dalla polizia e arrestato dopo una colluttazione con sé aveva la beretta e il bottino di 220 euro il complice è fuggito ma è stato già identificato e poi tocco stagione turistica sotto le aspettative il primo bilancio segna un crollo del 20% a giugno rispetto al 2015 poi una buona ripresa e il pareggio arriva lo sbaracco occasioni a prezzi ok oggi in via l'Europa ci sono i negozianti con merci in saldo speciale al colle invece un corso di pittura andiamo nella pagina dell'area metropolitana di Francavilla ludopatia attivati i gruppi d'aiuto c'è chi si gioca tutta la pensione primi risultati del progetto Stop the Game nei comuni di Spoltore San Giovanni Tetino e Cepagatti storie diverse ma tristemente simili per il vuoto sociale affettivo e per la tentazione di farla finita a Cepagatti si ride stasera con il teatro dialettale a Francavilla botti a volontà oggi c'è Miss Trans 35 minuti di fuochi per San Franco Luciani intanto sarà nella giuria del concorso Miss Trans la pagina di Penne Popoli dell'Alta Val Pescara in fuga dall'area vestina in tre anni via 500 abitanti Penne perde 374 residenti sotto accusa la crisi del lavoro a Italia all'ospedale popolazione in calo anche a Loreto e Farindola Colle Corvino unico paese in crescita Torre si ferma per la notte bianca Torre dei Passeri alle 20 darà vita alla festa con musica e animazione Corso Garibaldi senza auto andiamo avanti adesso con la lettura del giornale e dei giornali e torniamo invece sul messaggero per andare a vedere le notizie dalle cronache aquilane così si spacciava nell'asilo occupato le testimonianze avverbale dei ragazzi finiti nell'indagine della squadra mobile sul giro in Viale Duca degli Abruzzi un ventenne ho consumato lì dentro anfetamina mescolata con birra dopo mezz'ora mi sono sentito male sta facendo molto rumore il caso che coinvolge il noto edificio inagibile adesso noto come asilo occupato i salviniani dicono per anni è stata tollerata un'occupazione doppiamente abusiva e la replica degli attivisti la droga gira anche nei centri definiti legali comunque sulla polemica andiamo a vedere questo servizio è arrivato il momento di chiudere il cosiddetto asilo occupato ad affermarlo è Francesco De Santis membro del coordinamento regionale di noi con Salvini Abruzzo e componente del consiglio territoriale di partecipazione numero 7 De Santis interviene in seguito all'inchiesta della squadra mobile dell'Aquila che ha scoperto la presenza di droghe hashish metanfetamine speed cocaina all'interno del cosiddetto asilo occupato la struttura un ex asilo comunale del centro storico danneggiata dal terremoto è occupata da oltre 5 anni nonostante lo stato di inagibilità da gruppi di giovani che l'hanno trasformata in centro di aggregazione gli spazi autogestiti sono beni comuni costruiti dal popolo con questo slogan viene difeso dagli occupanti il presunto diritto di dimorare nell'asilo l'inchiesta per droga secondo De Santis conferma le denunce che da anni sono state fatte sulle attività che si svolgerebbero nell'asilo occupato il partito democratico dice De Santis non ha mai voluto fare chiarezza sui dubbi che l'intera cittadinanza aveva riguardo le attività ricreative che si svolgevano nell'asilo mentre adesso la polizia ce ne ha dato conferma droga e spaccio in pieno centro storico in uno stabile pubblico occupato da associazioni di sinistra che non hanno mai ricevuto l'ordine di sgombero da parte dell'amministrazione aquilana si legge nella nota ricordiamo tutti il segretario del PD aquilano in un comunicato datato 2014 che affermava che le associazioni che hanno dato vita all'esperienza dell'asilo occupato hanno svolto una funzione sociale importante e ora di porre fine a questo scempio conclude la nota dell'esponente di noi con Salvini Abruzzo invitando a chiudere l'asilo occupato e all'aquila polemiche anche sul progetto case un inquilino torna a minacciare il suicidio ripresa la protesta dopo che non è stata ripristinata l'acqua calda come aveva promesso il sindaco Cialente poi via della Genca ancora sesso in pieno centro sono stati denunciati sempre all'aquila finiti i lavori a Palazzo Ciolina rinascono i quattro cantoni uno dei più grandi aggregati del centro storico 23 milioni oggetto della ricostruzione dopo il terremoto e poi nel taglio basso ecco il labaro del quarto di Santa Maria e poi fuoco morrone un rifugiato il tedoforo dell'ultimo dell'ultimo tratto a Santa Barbara verdeacqua per la Junior Tennis convinzione illegittima nelle pagine di Avezzano sul Mona comune e bufera sull'automulti il parere del legale contravvenzioni legittime ma il ricorso è possibile perché sui manifesti mancano le disposizioni Donatelli dell'ASCOM Magia del Fare abbandono tutto come del resto già fanno gli altri imprenditori in Italia e poi acqua inquinata nel Fucino ora l'irrigazione è a rischio andiamo adesso sulle cronache terramane passiamo alla città quotidiano della provincia di Teramo il caso umano 16enne denutrita infestata dai pidocchi ragazza terramana trovata in casa in condizioni precarie e accompagnata in ospedale dai carabinieri le indagini la madre avrebbe raccontato ai militari di vivere una difficile situazione economica dopo la separazione dal marito solidarietà è arrivata da parte di alcuni vicini di casa che non hanno voltato lo sguardo dall'altra parte poi disagi in vista sulla Teramo Mare un mese di manutenzione ai guardrail nel taglio basso volontari da tutta Italia per ripurire i sentieri della vallata delfino in 12 hanno partecipato al campo organizzato a Castilenti oggi la presentazione dei risultati raggiunti per l'iniziativa di lega ambiente la politica terramana la scadenza del brucchi bis si sposta in avanti nessuna sentenza in arrivo dall'incontro di fine agosto dei gattiani anche se Rudy Di Stefano porterà le sue critiche al sindaco l'attesa la discussione sulla situazione politica in maggioranza si terrà non prima dell'autunno l'appalto degli scuolabus resta alla Angelino l'azienda napoletana si aggiudica la procedura negoziata del comune con un ribasso del 32% Frat Arcangeli la società finita al centro delle polemiche negli scorsi anni non è stata neanche invitata a partecipare e poi il referendum la scalata antiriforma ripetuta la prossima settimana il gruppo del comitato tornerà di nuovo in vetta al Gran Sasso per dire no a Renzi e alla Boschi andiamo in provincia in Abruzzo 276 beni sottratti alle mafie aumentano le confischie anche nel Terramano 65 immobili tra ville terreni appartamenti e magazzini confiscati i beni l'indagine portata avanti da giornalisti tecnologi e attivisti sulla base dei dati di inquirenti di investigatori un rapporto utile a migliorare la fase del riutilizzo dei beni sottratti alla criminalità questo per quanto riguarda anche le notizie dal Terramano adesso torniamo sul quotidiano il centro per andare a vedere insieme la pagina dello la star abruzzese del momento è Nicolai bello così ci riproverà verso Tokyo 2020 le prossime Olimpiadi la nuova icona dello sport abruzzese già oggi a casa per riabbracciare la famiglia la fidanzata serena la medaglia gli frutterà un premio di 75 mila euro dal CONI e alle 5 del mattino la piazza è diventata una torcida sempre ad ortona in 600 davanti al maxischermo cori applausi per sostenere il gigante dell'aeronautica e poi Azzurri a testa alta Lupo Nicolai il sogno rimane d'argento questo per quanto riguarda la cronaca della partita contro Allison e Smith calcio domani il debutto del Pescara c'è Baebec in attesa della prima accordo per la punta del PSG contatti in Svizzera per un mediano Sebastiani ha parlato con il DS dei parigini Kluivert l'attaccante atteso in città per martedì dirigente a caccia dei rinforzi richiesti da Oddo adeguato il contratto dell'attaccante rumeno Mitriza e poi per le scommesse Napoli strafavorito ovviamente i vice campioni d'Italia sono i favoriti per la partita d'esordio dal primo ottobre la moviola in campo per quanto riguarda le novità arbitrali gli arbitri illustrano le novità dei regolamenti diminuiranno le triple sanzioni entusiasmo in città restano 300 biglietti di tribuna Maiella salta il pienone e 2400 tagliandi inventuti nel settore ospiti per quanto riguarda la partita contro il Napoli e poi le altre di Serie A Allegri non si fida con la Fiorentina servirà carattere nel big match di questa sera in apertura di campionato che sarà aperto dalla partita della Roma contro l'Udinese andiamo avanti con il calcio ma scendiamo in Lega Pro il Teramo fa le prove generali stasera amichevole al Bonolis col Perugia a una settimana dal debutto di Lumezzani andiamo ad ascoltare il tecnico del Teramo Lamberto Zauli oggi il Teramo a che percentuale è di condizione? non riuscirei anche volendo nel senso che stiamo andando secondo me bene perché ad oggi tutti gli effettivi si stanno allenando per preparare la partita con il Perugia per completare bene questa settimana poi entraremo nella settimana del campionato cercheremo di fare la settimana tipo e portare la squadra in maniera più brillante per affrontare partite di un campionato molto selettivo e molto difficili contento di ritrovare Filippo Capitanio? ma è un ragazzo che ho allenato l'anno scorso c'è stata la possibilità di portarlo un ragazzo che ha nella sua testa la volontà di fare il calciatore di un certo livello questo di lui mi piace viene a completare un reparto già forte e quindi sono assolutamente contento di Bulevardi? ho detto qualche giorno fa è già qualche giorno che è con noi abbiamo fatto tutto un ritiro con l'infortunio di Ilari che oltretutto ci ha penalizzato con pochissimi giocatori del centrocampo quindi l'innesto di Bulevardi è un ragazzo giovane che ha voglia di fare il calciatore quindi questi sono i presupposti importantissimi per far parte del teramo di quest'anno e quindi sicuramente sarà un giocatore giovane con già un paio di esperienze in Lega Pro e quindi sarà molto importante restiamo al centrocampo Amadio? ma io ripeto sempre la stessa cosa e ragiono anche un po' da ex calciatore e penso che qualsiasi professionista di qualsiasi campo se potesse migliorare la propria carriera prenda la palla al balzo quindi i rapporti con Amadio sono ottimi col sottoscritto con la società stiamo valutando se c'è la possibilità per il ragazzo di migliorare la propria carriera quindi non sarò certo io a togliergli questa possibilità detto questo se salta tutto io sono il primo a essere contento perché ritengo Amadio un leader di questo gruppo un giocatore forte e quindi vedremo i sviluppi è chiaro che non aspetteremo il 28 il 29 il 30 perché della prossima settimana chi si allenerà qui si allenerà per vincere a Lumezzano quindi ci saranno dei tempi però questi sono un po' i scenari personali sulla faccenda di Amadio situazione Amadio che pare non sbloccarsi Latina tergiversa su Stefano Amadio questo scrive la città ancora in fase di stallo la trattativa per il centrocampista del diavolo ma ormai il tempo stringe l'abbiamo sentito anche dalle parole di Zauli l'offerta della Tina che pareva essere deciso a soddisfare anche le richieste economiche del Teramo non è arrivata e dunque vedremo come proseguirà questa telenovela estiva e poi basket il Campli lancia la sfida all'altra serie B la squadra farnese presentata nella sala consigliare del comune alla presenza di sindaco ed istituzioni il professore Claudio Mazzauf inizia la sua trentesima stagione come preparatore atletico e dunque in bocca al lupo anche al Campli basket mentre per la serie A2 il secondo straniero di Roseto è Morris Lievis Briggs l'ala centro statunitense ha disputato l'ultima stagione in Georgia e noi chiudiamo qui la rassegna stampa il mattino 6 tornerà lunedì alle ore 7 io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina e vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 14 alle 19 e alle 23 con il TG6 grazie ancora buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.